Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break2Player, eccoci qui con Betrayer e oggi andremo a esplorare da questa parte c'è qualcosa che attira il nostro udito, come vedete si trova proprio a dritto là di fronte a noi, diciamo a nord-ovest, nord-ovest quella direzione là più o meno e andiamo a proseguire, siamo nell'altro mondo, come vedete abbiamo trovato lo spirito di Martha Iscroove, la moglie di William che probabilmente si è uccisa con una pistola e abbiamo rinvenuto lì nei dintorni dunque, qui stiamo attenti perché potrebbero sbucare fuori scheletri un po' ovunque siamo vicini mi sa, un attimo quella direzione è sempre bene ok non vedo dov'è? dov'è? eccolo là ce ne sono altri? non mi sembra di vederne dunque da quella parte ok scheletri, non fate scherzi quella direzione là ok vado vado, vado mi sa che ci sta conducendo ragazzi verso Fort Harry eh sì, quindi vabbè, a questo punto arriviamoci a piedi probabilmente dobbiamo riparlare con il signor William per capire se effettivamente la sua moglie si è sparata vedremo se otteniamo un coso del un achievement della delle anime salvate parliamo con William ciao William Marta è in ansia per vostro figlio quando era preoccupata si disperava alcuni di noi sono andati nel bosco per cercarlo sentirò Gregory Ward chiamarlo e in quel momento ho pensato che fosse al sicuro lei ricorda di averti visto attraversare il cancello insieme a lui gli stavo dicendo che non avrebbe dovuto giocare fuori da solo perché molti erano i pericoli in questo bosco gli ho detto che non avrebbe più dovuto far preoccupare sua madre riconosci questa pistola ricordo di averla presa dalle mani di mio figlio aprendo le dita chiuse intorno ad essa e dicendogli che non avrebbe più dovuto usarla senza il mio consenso ho rinvenuto la tua pistola vicino ai resti di Marta quando mi sono risvegliato non c'era più ero spaventato sono corso fuori e ho chiamato la sentinella questa era appena entrata in servizio allora ho svegliato Gregory Ward per chiedere cosa avesse visto durante il suo turno lui cosa ha risposto? non riesco a ricordare ok diario aggiornato quindi Gregory Ward lo sa Gregory se non sbaglio è lui? andiamo un pochino a sentirlo Gregory sei tu? Gregory Ward William Eastgrove ti ha svegliato per chiederti cosa avevi visto durante il tuo turno di guardia gli ho riferito che sua moglie aveva lasciato il forte dicendo che andava a fare una breve passeggiata ho pensato che fosse strano che indossessi per l'occasione una collana preziosa ricorda che stavi chiamando il nome di John mentre per lui stavi il bosco ah stavi cercando John quindi ho intravisto il ragazzo in una radura mentre puntava una pistola verso un albero ha premuto il grilletto ma non è successo nulla così ha guardato in canna sono corso verso il lui più veloce potessi chiamandola a gran voce non ricordo di aver sentito il colpo ma solo il fumo che lo tenebrava ok quindi la tomba probabilmente è del figlio di William William non sei proprio un uomo fortunato il tuo figlio si è accidentalmente sparato ora ricordo alcuni di noi sono andati nel bosco per cercarlo ho sentito Gregory Ward chiamarlo in quel momento ha pensato che fosse al sicuro poi ha risuonato un colpo di pistola ricordo di aver preso la pistola dalla mano di mia figlia prendo le dita e chiuso intorno a essa dicendogli non avrebbe più dovuto usarla senza il mio consenso quindi gli ho chiuso gli occhi e sono andato da Marta per dirle che il nostro figlio era morto ricordo di averlo condotto con me attraverso il cancello dicendogli che non avrebbe dovuto giocare fuori da solo perché molti erano pericoli in questi boschi gli ho detto che non avrebbe più dovuto far preoccupare sua madre infine ho visto il sorriso di sollievo sul volto di lei mutare in disperazione Gregory Ward ha detto che Marta aveva lasciato il forte di prima mattina indossando la sua collana in topazio sapevo cosa stava accingendosi a fare perché aveva preso la mia pistola perché aveva indossato quella collana stava ancora correndo nel bosco quando ho sentito lo sparo proprio come era accaduto in precedenza si è tolta la vita? è per questo motivo che l'ho sepolta lì così facendo il cappellano non l'avrebbe marchiata come peccatrice condannandola alla dannazione non volevo che fosse ricordata in questo modo come è spiegata la sua scomparsa? ho detto la verità che era andata per il bosco e non aveva fatto il ritorno a casa ok abbiamo completato l'investigazione di Marta Iscroo quindi bene così che ci manca ci manca Edmund Goddum no questa Edmund Goddum l'abbiamo completata Marta Iscroo completata John Iscroo completata la fanciulla è in rosso finalmente mi ha parlato ma non ricordo il suo nome sembra che non sia appena in grado di vedere rispetto bla 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 ok quindi ragazzi torniamo nel mondo del nel mondo normale diciamo e signorina io ho risolto il problema del mio amico stai ancora aiutando i tuoi amici spettri? ho scoperto il fatto di uno spettro ho un regalo per te perché dovrei avere un regalo per te? ho un regalo per te di cosa si tratta? questo flauto di Hannah apparteneva a Edmund Goddum questa pallona d'oro del topazio apparteneva a Marta Iscroo non mi sarebbe un regalo più appropriato ovviamente però non mi piace dargli questo perché comunque è morto e suicida quindi ha deciso di portarla dietro e non è proprio un bel regalo mentre il flauto di Hannah comunque Goddum è stato ucciso da Gregory Ward potrebbe essere un buon regalo perché lo stai consegnando a me? ho pensato che potrebbe piacerti imparare a suonarlo così che tu mi possa intrattenere ho pensato che potrebbe piacerti però pazientemente pratica ma solo quando sarai fuori portata questa pallona d'oro del topazio che apparteneva a Marta Iscroo diamogli anche questa boh diamogli anche questa è molto bella perché la stai dando a me? puoi barattarla diciamogli perché tu sei molto bella cerchiamo di tenere l'amica per tenere la tua in caso incontri una donna che si muove di fronte a tale banali sentimenti infatti ok quindi ho finito dove sarà mia sorella? ho scoperto il fatto di uno spettro che cosa hai scoperto? Marta Eastgrove si è sparata per caso del dolore della morte accidentale del figlio così facendo ha raddoppiato il dolore del marito lo ha inoltre reso lo ha inoltre reso solo nell'affrontarlo ok penso che sia stato molto egoista ho scoperto il fatto di uno spettro Gregory Ward ha ucciso Edmund Goddum perché non si scoprisse che era una spia cattolica essere una spia vuol dire essere una spia vuol dire essere un bugiardo costante non può essere al tempo stesso un bugiardo in servo di Dio per non parlare di essere un assassino ok quindi basta in questo posto non mi sono mai sentito a mio agio mi chiedo qui se è successo qualcosa terribile ok quindi non ci dice altro Marta come ti chiami? ragazza cappuccio rosso panciulla è rosso ti chiami stai combattendo molte battaglie sono sicuro che sono eccitante e pericolose sì ma me mi capirebbe trovare invece una pala ma non è qui dunque ragazzi dunque 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 vediamo di che c'era che brillava qui? forse ha solo un'impressione fantastico quella bandiera che si muove vediamo di intanto andare qui a esaminare questo mercante abbiamo 209 soldi dineri possiamo andare a comprare o la faretra per arco lungo 20 frecce d'arco lungo o il corno 12 palle per moschetto fiaschetta per pistola 15 vediamo di vendere la pistola grezza 224 arco lungo rotto moschetta arruginito se ne abbiamo un altro 269 ok possiamo andare a comprare quindi io direi la il corno per moschetto e andiamo a comprare anche la palla da moschetto ne abbiamo 8 quindi vediamo di comprarne altre 3 perché non possiamo comprarne 4 ci manca una moneta chiudiamo quindi abbiamo anche il moschetto con più munizioni e a questo punto ragazzi dunque andiamo a esplorare la zona sud guardiamo tanto qui non hanno altro da dirci immagino vedete gli indizi figur di cenere pistola rugginita apparteneva a William la teneva con sé ok persone Martha Eastgrove e William Eastgrove non ci dice ah io ho trovato tutte le info sull'oggetto però probabilmente abbiamo ottenuto tutto vittima colpo in testa andiamo verso il cancello che abbiamo trovato qua anzi qua oh ma andiamoci di giorno si 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 andiamo io penso che gli spagnoli non ci siano più a giro ne abbiamo uccisi una marea ci sono quei 3 vicino al cancello effettivamente ma abbiamo il nostro moschetto soffidato moschetto seguiamo la strada semplicemente verso sud ok qui abbiamo liberato si qui ce n'erano diversi ce n'erano 3 lungo la strada e uno qui nei boschi e non percepiamo altro nella luce non abbiamo fatto la prova nell'altro mondo ragazzi però non penso che ci sia niente allora lì dicevo c'è quel barile ma non ci permette di sbloccare destinazione viaggio rapido dovremo cercare di trovare una posizione adeguata per uccidere quelli stronzi da giù allora io direi di iniziare proprio con un colpo a caso là ecco l'ho lisciato subito attenzione colpito colpito no liscio merda ce n'è uno grosso ce n'è uno grosso ce n'è uno enormemente grosso ma cosa cazzo sei fermo muori muori uccidiamo quello ok aia oh cazzo ce n'è un altro wow morto no merda oh cazzo ricarica vai non è morto ma cosa cosa sei il boss tipo te dov'è 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 qua dietro eh aia eccoci no no non ti puoi andare nell'angolo wow ho scrivato il colpo per un centimetro tipo ma la ricarica la vediamo per favore wow che c'è anche quello piccolo che ci spara oltretutto vediamo se oh ora si ragiona ora gli abbiamo fatto un bel po' di danno ricarica vai vediamo di evitare i suoi colpi ois io direi anche di bere abbiamo recuperato tutto perfetto quindi stiamo finendo l'intorno vediamo di finire qui il discorso facciamo una cosa ragazzi vediamo ah abbiamo finito le frecce interessante no 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 io amico io oddio ho scanzato la testa in real diciamo ragazzi ricarica il moschetto vabbè usiamo la pistola va ok dov'è il gigante qui oddio dai ci siamo quasi ricarica la pistola su che è la pistola più veloce da ricaricare dai come ma era morto gli ho sparato odioso gioco come vedete ragazzi quando si pianta così basta cliccare di solito abbiamo sparato scusa signora non volevo spedirla viviamo l'acqua abbiamo consumato molte le nostre munizioni naturalmente abbiamo tutte le munizioni consumate inventario soldi 4 ye ok ragazzi torno da quella parte ci vediamo fra poco ok ragazzi a quanto pare sono rispaunati i nemici allora sono già rimorto in pratica perché ero andato tutto tranquillo convinto che non ci fosse nessuno invece era pieno di nemici e sto ritornando verso la zona laggiù dovremo riaffrontare il signorino ora io per sicurezza direi di andarmi a vedere un attimino nelle opzioni controlli andiamo a vedere se lancia esplosivo con B ok ricordiamoci questa cosa perché usare l'esplosivo con il gigante probabilmente è la scelta migliore ok qui non c'è più nessuno quindi probabilmente quelli che ho ucciso diciamo l'ultima volta sono rimasti morti ok allora io direi di stare qui nei dintorni e iniziare colpendo lui vediamo se il gigante arriva subito io direi di uccidere tutti i piccoli prima comunque eeeh va bene ho finito i colpi dell'arco ecco il gigante ragazzi ok vediamo di usare ok eh salve io guardia bevo questa salve ehi aia fai male io per la verità no però ragazzi ma sbaglio c'è lo stesso rumore del dell'orzo di far cry cioè c'è lo stesso effetto sonoro che discorsi sono non sei un orso so che puoi avere delle crisi di identità ma non sei un orso te lo posso assicurare tieni questa bene a curarsi curati ok via curati un'altra volta ah ui prendi la pistola vai che è meglio la pistola parco lungo scadente moschetto interessante via cos'era quel film non lo so ma recuperiamo l'acqua ok vediamo di recuperare un po' di roba aiuto aia eccoci si è abbassata al momento sbagliato ui allora vediamo dai di prendere l'arco e di colpirlo con l'arco dai che ora muori e invece no hai visto che ho cambiato l'idea all'ultimo istante ok ok ho anche sparato un colpo a cazzo tutte le destinazioni sono state sbloccate guardiamo la tina una mappa ah ok abbiamo un cancello quindi recuperiamo tutto recuperabile andiamo a ah non dobbiamo curarci dobbiamo semplicemente recuperare altra roba di qui per niente parla da moschetto ok siamo al massimo moschetto è già ricaricato ma io avevo anche una pistola pistola comune due perché non me la fai prendere ah no ce l'ho qui non c'è niente a recuperare e siamo a un cancello cancello ci sono delle casse qui troviamo delle munizioni ma le abbiamo già tutte e siamo fuori ok quindi abbiamo completato probabilmente questa zona di Fort Henry c'è un cartello ma ah ok si leggi no ho creato il tomo non volevo l'ho già ripreso di notte il cancello rimane chiuso ok allora sentry post posto di guardia ragazzi sempre nome inglese quindi teoricamente siamo sempre nel possedimento inglese meglio così e vediamo un pochino cosa troviamo qua davanti stiamo attenti inizierai subito vi fa già il nostro arco lungo scadente tre frecce e vediamo se notiamo qualcosa di rosso soprattutto perché quella la paura principale perché abbiamo solo tre colpi nell'arco quindi dobbiamo sbagliarli in pratica dunque vorremmo andare alla mappa siamo qua a destra ok quindi avremo questa strada qui ci sarà un piccolo accampamento proviamo ad andare subito lì anzi usiamo il nostro buddito ci consiglio andare da quella parte le nostre orecchie ragazzi non sbagliano mai quindi seguiamole ok lì abbiamo una torretta avvistamento sembrerebbe vuota e ciò mi rallegra anche perché è difficile trovare alle aree oh ce n'è un'altra ce n'è un'altra no è un albero ok stiamo attenti però perché scherzo lo discorso non vorrei trovarmi li vicini perché se riesco a individuarli da lontano no problema ok da quella parte va bene quindi stiamo andando verso sud esatto andiamo quindi a avanzare vediamo gli occhi ben aperti ben spalancati lungo il tragitto e ok c'è una radura sembrerebbe vediamo il nostro udito dove ci porta precisamente alla radura ok quindi avanziamo con molta cautela non si vedono ancora nemici sembra sentito un gufo la direzione da seguire è questa quindi non proprio la radura ragazzi ma ancora la direzione la ho sentito dei rumori strani oh che cazzo che cazzo siete cosa siete merda vediamo di sento qualcosa di molto vicino dietro esploso esploso aia sono probabilmente ragazzi gli autotoni non è morto vieni qui strancio vieni qui strancio io ho fucile non mi prendi qui se si merda dai curati merda chi scappa ora ok arco corto consunto quindi abbiamo anche un arco corto probabilmente ragazzi ha una citata limitata danno minore ma velocità maggiore aia ma io volevo evitarlo il colpo quindi ma perché sei solo tu perché non riesco a evitare i vostri colpi dove sei stronzo so che siete dietro all'albero va merda no in mezzo alle gambe merda 17 di salute aiuto aiuto 4 di salute fugo 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 non mi prendi non mi ui se no freggio può essere molto vicino mi carica velocemente questo coso non mi avrai non mi avrai invece si arriva una freccia mi uccide sto fuggendo sul serio ce lo sto facendo ragazzi non mi sta inseguendo forse molto calma cautela oh scoppiato c'è un altro siamo salvi allora intanto ricarichiamo primissima cosa compiato che sia una buona idea andare da quella parte dunque ragazzi direi di interrompere qui questo episodio abbiamo visto abbiamo avuto un assaggio un piccolo assaggio non proprio piacevole di quello che affronteremo da queste parti autoctoni gente tribale che silenziosa veloce letale si nasconde bene la boscaglia e preferivo gli spagnoli con la loro armatura che devono le frecce ma una volta che ah va eh volevo gli spagnoli c'era uno spagnolo sembrerebbe con il suo elmetto con il pennacchio e noi dovremo trovare il modo di vediamo la nostra pistola la nostra fidata pistola dovremo trovare il modo di raggiungere un posto sicuro perché praticamente non non abbiamo modo di curarci per adesso quindi ci vorrà un po' ragazzi come sempre se il video vi è piaciuto mettete mi piace lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play un saluto a tutti da Nicolas ci vediamo nel prossimo video